Ciao a tutti ragazzi, è presto ancora per partire, abbiamo appena aperto la Zoom, vedo già quasi 300 persone connesse in 30 secondi, quindi grazie, come sempre il venerdì è una giornata critica dove la gente si va a divertire, non è detto che abbia la voglia di assistere alle lezioni. Allora stasera andiamo a vedere, come sempre live gratuite e rimarranno gratuite, il COT Report, quindi il Commitment of Traders Report e vi spiego perché è un tools che il 90% o il 99% degli operatori non sanno utilizzare ed erroneamente pensano che essendo dilazionato nel tempo, quindi essendo in ritardo di una settimana, allora è un'informazione inutile, che è una cosa che purtroppo è limitante, è limitante dal punto di vista anche dello swing trader e del position trader, perché in realtà è uno strumento favoloso. Allora, leggo un attimo le risposte, come sempre le vedo solamente io. Oggi sono stato bannato da un gruppo perché dicevano che Wyckoff non funziona, ma in realtà dipende, ci sono persone che magari lo applicano come veniva applicato centinaia di anni fa sull'azionario e in quel modo, quindi andare a cercare di racchiudere per forza il grafico dentro una schematica, concordo sul fatto che non funziona. Sul fatto che invece non funzionano i concetti di Wyckoff penso proprio di no, ok? Assolutamente no. Però ognuno è libero di pensarla come vuole, cioè la cosa che ti chiedo al ragazzo che ha scritto la domanda è a te cosa te ne entra in tasca dal convincere gli altri, ok? Alla fine facciamo live gratuite, ok? Quindi non abbiamo nessuna intenzione di andare a convincere gli altri che la teoria di Wyckoff sia funzionante. ognuno testa quello che vuole, ok? E vede se poi trova dei riscontri. Fabio, ma il COT è completamente inutile per l'intraday? Allora a mio parere sì, a mio parere è inutile, a mio parere è inutile. Io ho scoperto il COT dal grande Larry Williams. Esatto, allora questa è un'altra riflessione che voglio farvi, no? Secondo voi, la performance più alta al mondo mai raggiunta dal trading, ok? È l'Helry Williams. Parliamo di più di un 11.000% sul capitale in un anno, in meno di un anno in realtà. Quella persona dice a diverse interviste dove dice quanto è importante il COT report per un'ottica di lungo termine, quindi maggiore a una settimana, e nonostante ciò ci sono persone che dicono che il report è inutile, ok? Ora io sono per la libera espressione di tutti quanti, però forse sarebbe il caso di ascoltare chi ne sa più di noi, ok? Io mi sono messo seriamente a studiare il COT report soprattutto per l'operatività swing. Ottimo, ho letto oggi la storia di Larry, assurdo. Esatto. Questo non lo sapevo, questo non lo sapevo, Ivan, che Larry riceveva il COT report cartaceo. Siamo 400 persone, purtroppo c'è il K500, adesso facciamo anche l'upgrade zoom per arrivare a 1000. Alle 500 persone partiamo e non potranno più entrare. Ok, ok. Ciao Fabio, è una settimana che cerco di trovare il canale Telegram e vedo tutti i fake. Sì ragazzi, è una problematica che ormai conoscete, vi agganciano, cercano di vendervi qualcosa, utilizzano il nome mio, di altre persone, insomma, chiunque abbia una reputazione online cercano di vendervi roba, indicatori, software automatici, tutta questa roba qua, insomma, per spillarvi dei soldi. Voi sappiate che attualmente non c'è nessun servizio attivo, è gratuita la live, quindi chiunque vi chieda soldi a nome mio, mandatelo via perché si sta prendendo in giro. Sì, anche la figlia ha vinto il campionato mondiale e questa è è stata una delle più grandi dimostrazioni di replicabilità del sistema di Larry. La figlia ha vinto l'ecosistema commodities, ragazzi. Ha vinto il campionato mondiale in termini di commodities. Allora ragazzi, sicuramente siamo 21.05, aspettiamo altri cinque minuti e poi partiamo. Nel frattempo continuiamo a fare il Q&A. Allora, Fabio questa settimana, questa Andrea ha tre stop e un profit, però sono comunque il profitto del 5%, vuol dire che utilizzi un buon rischio rendimento, grande. Ottima trader, video un webinar di tre ore di Larry dove spiegava ciclicità dei mercati dove lui ha guadagnato milioni grazie ad essa. Sì, allora ragazzi, sulle commodities, soprattutto sull'ecosistema, sul mercato dove ha lavorato la figlia di Larry, funziona benissimo la ciclicità di mercato, la seasonality, ok? Perché le commodities sono perfette per l'analisi ciclica, quindi se ti piace questa tipologia di operatività vi consiglio assolutamente di approfondire le commodities. Fabio, ho passato la challenge in un solo giorno grazie alle tue spiegazioni. Grande Francesco, però attenzione, ok? Passare la challenge in un solo giorno vuol dire magari ha fatto un trade all'ottaggio alto, quindi ci sta come cosa, però attento insomma per il lungo termine, che la statistica si costruisce long termine, tanto complimenti. Fabio, fai spread trading? Allora lo spread trading ragazzi è una metodologia come vi dicevo per le commodities principalmente, c'è qualcuno che lo utilizza sul forex, ma è un po' complicato e non lo utilizzo attualmente, l'ho utilizzato in passato, è una tipologia di trading che ha rendimenti inferiori rispetto alla speculazione, però è molto più sicura. Ottimo, la leggevo, spiegheresti i sistemi bias? Allora il Commitment of Traders Report è un sistema che ti dà la bias, ti dà la bias del mercato, quindi assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, sì ragazzi, il software che sposta a breakeven in automatico lo sto testando sul mio conto, il problema è che mi ha fatto un errore abbastanza grande, cioè abbiamo impostato che va a spostare a breakeven quando effettua un breakout strutturale, il problema è che nonostante metti breakout strutturale, non sappiamo perché, ma dà un bug, che quando la candela è piena, nonostante magari sul time frame di riferimento dove abbiamo messo di guardare la struttura che può essere un H4, va a spostare comunque a breakeven facendolo prematuramente, quindi per ora lo stiamo testando ma dobbiamo ottimizzarlo, attualmente stiamo continuando a fare a mano. No ragazzi, no, non ci siamo, ok? Se pensate che un software semplice come quello del cambio struttura vi possa permettere di portare avanti un conto senza ottimizzazione, non ci siamo, che serve comunque una strategia da montarci sopra. Cos'è l'Optimal F? Allora Andrea, ti consiglio il libro trattato di Money Management di Andrea Unger, ci ha spiegato tutto quanto, è un discorso un po' lungo, l'ho anche spiegata in un webinar gratuito precedentemente, ok? Allora ragazzi, direi che possiamo partire, mi date un 1 in chat se mi sentite bene, se ci siete? Siamo sulle 300, no scusate, siamo sulle 470 persone, ottimo, bombardamento di 1, fermi, fermi così rivedo i messaggi, ok? Allora, partiamo un attimo da come lavorano gli istituzionali, ok? Gli istituzionali non hanno i capitali che può avere un retail, perché il retail, la prima domanda che io mi sono sempre fatto è, in una distribuzione di mercato che può avere varie schematiche, perché altrimenti c'è sempre il pignolo che mi dice no ma non è detto che sia di Wyckoff, è vero, capitano le volte in cui il mercato fa picco, secondo picco e poi parte senza fare nessuna schematica, però parliamo comunque di qualsiasi schematica, in modo tale che facciamo contenti anche i pignoli, ok? Qualsiasi schematica distributiva o accumulatoria vede una presenza all'interno del mercato di varie fasce d'operatori, ok? L'errore più grande del trader è applicare la teoria dell'uomo composito, che è stata elaborata da Wyckoff, e pensare che tutte le tipologie di trader abbiano gli stessi obiettivi e gli stessi capitali. Secondo voi, ok? Questa è una domanda che vi faccio che vi apre il cervello, vi apre proprio la mente. Chi ha un capitale da un miliardo e chi ha un capitale da un milione o chi ha un capitale da un miliardo e chi ha un capitale da centomila? Prima domanda, opererà sugli stessi strumenti, sulle stesse piattaforme? Seconda domanda, potrà entrare con la stessa fluidità di mercato? Perché questa è la prima cosa che va messa in chiaro, ok? La risposta è no a tutte e due. Perché la risposta è no a tutti e due? Perché se tu vuoi entrare con un contratto, parliamo del futures ad esempio, vuoi entrare con un lotto forex, o vuoi entrare con qualsiasi, insomma, lottaggio o size di qualsiasi strumento, un conto è farlo con un capitale ridotto, un conto è spostare miliardi, come fanno ad esempio gli hedge fund, come fanno gli istituzionali e come fanno ovviamente i pension fund, ok? Il ragazzo dice lagga ogni tanto, riuscite a sentirmi? A me va benissimo, mi dà la connessione verde, dovrebbe andare bene, ok? Ok, va bene, allora il problema è solamente del ragazzo, benissimo. Allora, la prima domanda, vi dico personalmente i dubbi che sono venuti subito a me è, scusate, io posso fare un'analisi con un'ampia precisione dopo lo sbilanciamento, ok? Perché non entriamo tutti qua? Cioè, perché non prendiamo il punto a massimo rendimento e a minimo rischio che ci copriamo dietro la struttura? In realtà non funziona così per quanto riguarda gli istituzional. Gli istituzional cominciano a costruire la propria posizione da molto prima. Se questa è la schematica è molto probabile che la posizione short da parte dei fondi sia iniziata da questi livelli, ok? Quindi non sia un'entrata secca e vedete il mercato che fa questo, anche perché vi faccio una domanda. Quando noi abbiamo una demand zone su 10 volte, quante volte capita che il mercato arriva qua, una candela e parte? È raro, è veramente raro, soprattutto se vai su time frame alti. Di solito quello che vediamo è demand zone, mercato che arriva, compressione di mercato, ok? Gli eventuali sbilanciamenti di accumulo e poi il mercato parte. Confermate questa cosa? Voglio la risposta di coloro che trattano tutti i giorni sui mercati, ok? Perché parliamo di coloro che il mercato lo vivono tutti i giorni, confermate? Esatto, ok? È veramente difficile che arriva in zona, boom e parte, è rarissimo. Quindi dobbiamo capire un attimo intanto come si forma questa schematica e perché si forma e vi potrò spiegare proprio perché il cot report c'è utilissimo per gli swing trader e per i position trader. Quello che arriva qua dentro sono una serie di volumi di costruzione dell'operazione, ok? La posizione si fa in building quando siete istituzionali, quando avete quei capitali, perché avete necessità di controparte e avete necessità di non spostare troppo il mercato, il cosiddetto slippage, perché se voi entrate qua e sono tutti i vostri, ok? Quindi entrate pesantemente, cosa succede? Che avete un average pricing che è peggiore, ok? Avete bisogno di dilazionare, ok? Avete bisogno di dosare la posizione pian piano, anche perché i capitali che immettete al mercato, come vi dicevo, sono ampi. Quindi abbiamo parlato del fatto che una posizione istituzional si costruisce. Quindi la prima domanda e la prima obiezione che viene fatta all'utilità del cot report, qual è? È dilazionato, ok? È in ritardo di una settimana. E se è in ritardo di una settimana, allora che ci faccio? E da qua si capisce subito perché questo strumento di trasparenza all'interno dei mercati, perché è offerto appunto proprio da enti regolamentatori, la prima domanda che viene fatta è, per chi è utile? Non è assolutamente utile per l'intraday, non è utile per lo short term, quindi per tutto quello che riguarda scalping, è utile per swing trader con ottica almeno settimanale e position trader. Capite bene che se io ho un'ottica così di breve termine, cioè due giorni, un giorno, un dato che mi esce a distanza di una settimana, cosa me ne faccio? Ok? Non me ne faccio niente ragazzi, ok? Ho bisogno di avere un'ottica di lungo termine se voglio utilizzare questo strumento. Adesso andiamo a vedere subito nel pratico come si utilizza. Intanto una domanda, quanti di voi lo utilizzano il cot report? Quanti di voi lo utilizzano? C'è un ragazzo che dice, Mattia, io sì, io no? Io sì? Mai sentito? Ok, allora, cos'è? È il commitment of traders report, ok? Perché è utile? Allora, dovete capire questa cosa, all'interno dei mercati noi siamo microbi, ok? Siamo piccolissimi, anche coloro di voi che hanno un conto a sette figure, siete comunque minuscoli, ok? Parliamo di capitali che sono ininfluenti rispetto a quello che muovono le istituzioni. Ora, c'è una regolamentazione. Chi ha determinati posizionamenti che vanno oltre una soglia, ok? Che è decisa dall'ente regolamentatore, devono dichiarare apertamente la loro posizione, ok? Quindi tutti i dati che noi otteniamo all'interno del report sono dati importantissimi che ci fanno capire cosa stanno facendo gli shark. Non si parla di cosa fa Fabio, cosa fa Filippo, cosa fa Matteo, ok? Ora, andiamo nel pratico, adesso che abbiamo capito come funziona, e andiamo a vedere intanto in che forma vengono rilasciate queste informazioni e andiamo anche a chiarificare come si utilizza questa benedetta informazione, perché se andate a vedere online, iniziate a cercare, vi escono fuori delle cose, cioè il report con l'informazione sullo yen che viene utilizzato sull'NZD, delle cose scabrose, ok? Allora, partiamo un attimo dai siti. Vi dico quello che utilizzo io personalmente, il migliore a mio parere, anzi i due migliori, come leggerli, ok? E poi vi dico anche come inserirlo all'interno della vostra strategia, se avete una strategia swing, se avete una strategia positioning. Allora, il primo sito è quello del CME, ok? CM Group. Qui vi rilasciano delle informazioni, vi specifica anche a cosa serve, ok? È una rappresentazione grafica del report della CFTC, ok? E riguarda proprio il posizionamento su Futures. Qui vi va a dire com'è diviso fra segmenti di clienti, quindi fra physical commodities e prodotti finanziari, ok? Quello che andiamo a vedere è soprattutto la differenza fra asset manager e leverage fund, funds, e poi andiamo a vedere invece il classico che mi ci trovo molto bene su bar charts, ok? Qui vi va a spiegare tutto quanto, ma queste informazioni, ricordatevi bene, che sono su questo sito, a mio parere, aggregate in modo male, ok? Aggregate in modo negativo, cioè voi dovete capire anche che devono essere fruibili, devono essere utilizzabili, l'informazione in sé per sé, senza una lettura accurata, è abbastanza inutile, ok? Mi sono uscite cose clamorose cercando questo, io vi di un video e non si capiva niente, è bloccato su trading view, non si vede, ok? Aspettate un secondo, ragazzi, vi rifaccio lo share screen, datemi un attimo, dovrebbe essere visibile attualmente, siamo sul sito della CME, ora sì, ora si vede, perfetto, tanto vi ho fatto vedere solamente questa pagina e vi ho letto queste cose qua, non vi preoccupate, come dicevo, in questo caso, anche se andate su Forex, l'aggregazione che abbiamo sui siti principali a me non piace per niente, poi guardate anche come è organizzato, il sito madre sul quale vanno a rilasciarlo è questo della CFTC, potete scaricare i dati, vi danno i dati, ve li vanno a suddividere, poi abbiamo due tipi addirittura di COT, abbiamo il disaggregated, abbiamo il classico, abbiamo delle metodologie ibride, ad esempio c'è un sito, ora non mi ricordo il nome, si chiama COT Base, ve lo faccio vedere come è strutturato, questo è a pagamento e mi sono visto qualcosa di quello che offrono loro e questo è ibrido, questo sito qua va a personalizzare tutte le informazioni, costa pochissimo, ok, costa veramente pochissimo, addirittura hanno anche un indicatore, ma è a mio parere dispersivo, cioè hai talmente tante informazioni che se non ti studi bene come applicarle vai a creare solamente confusione, idem penso per questo report, ok, vi faccio vedere invece cosa veramente è utilissimo, sì sì lo so, lo so, possono essere scaricati CSV e potete andarli poi a convertire su Excel per avere un'aggregazione, ma io sto parlando di persone che fanno swing trading, fanno position trading e vogliono avere diciamo una piattaforma pronta, gratuita, io vi insegno come utilizzarlo gratuitamente, vogliono quella conferma in più del bias di lungo termine, ok, il mio obiettivo della live di stasera è spiegarvi come questa informazione per chi fa swing, per chi fa positioning è oro, ok, mettiamo che voi avete già in mente, capite benissimo, come utilizzare la teoria quartile, quindi i numeri tondi, i mezzi tondi, la numbers theory, ok, tutte queste teorie qua che per il lungo termine, weekly, daily, i candlestick pattern, come funzionano, le zone di rotazione, vi danno una mano enorme, mettiamo che avete anche chiaro il concetto di liquidità, quindi avete una bella base di struttura di price action, volete una conferma in più, volete vedere cosa stanno facendo gli shark all'interno del mercato, questo è l'obiettivo di stasera, ok, questo è l'obiettivo di stasera e direi di andare direttamente nel pratico, perché dobbiamo parlare di un bel po' di cose, ok, allora, prima cosa che voglio chiarificarvi è questo sito, il migliore in assoluto che potete trovare è tradingster.com e la cosa assurda è che è gratuito, questo sito è gratuito, ogni settimana vi rilascia le informazioni relative al cot report, quindi andatevelo subito ad aggiungere ai preferiti se fate swing trading o fate position trading, ora, dobbiamo capire un attimo come questa informazione può essere inserita all'interno della nostra strategia di mercato, ok, quindi abbiamo capito dove si riperiscono i dati, dobbiamo capire un attimo il concetto come va integrato, allora il cot report arriva una settimana in ritardo ed è uno strumento di bias e sentiment analysis, sapete dirmi cos'è la bias e la sentiment analysis? come funziona ragazzi? quanti di voi sanno che cosa vuol dire almeno in ambito economico finanziario l'analisi di sentiment? esatto, ok, direzionalità a lungo termine del mercato, è una bussola direzionale, no attenzione non ti confondere Matteo, il sentiment retail è un altro dato, il sentiment retail ti dice cosa sta facendo? la parte di uninformed money vengono chiamati, gli uninformed money purtroppo sono quelli che cercano di guadagnare sul breve termine senza voler studiare, ok, e purtroppo prendono sempre pizza in faccia dal mercato, ok, questi dati vengono racchiusi all'interno di MyFXbook, ce l'ha anche il sentiment Honda, ce l'hanno altri 3-4 siti e questi dati li utilizzano per farvi capire quale direzionalità non dovete prendere, ok, infatti se andate a vedere il mercato va sempre al contrario di dove vanno i retail, l'80% delle volte, ma questa informazione qua a noi ci serve invece per il lungo termine per capire l'altra parte, cioè non ci frega niente di quello che fanno i retail, ci frega cosa fanno i fondi di investimento, ci frega cosa fanno gli asset manager, ci frega di capire cosa stanno facendo i market maker, che sarebbero i dealer intermediary, ok? Ora cercherò di rendervi il più chiaro possibile, sappiate che è un concetto ostico, ok, il Commitment of Traders Report non è una cosa semplice da comprendere, ma se capita, ok, vi permette di avere una bias prima di mettervi a grafico, quindi già che vedete questa cosa voi già sapete cosa aspettarvi per il lungo termine sul dollaro, cosa aspettarvi sull'euro o cosa aspettarvi su altri asset. Altra premessa, magari una persona vuole tradare l'euro-dollaro o vuole tradare USD-yen. Vi faccio una domanda, secondo voi quanti dati del Commitment of Traders Report deve integrare? Quanti dati devo andare a guardare? Gli basta quello dell'euro? Bravissimi, ok? Questo è l'errore che fanno la maggior parte delle persone. Dicono, vabbè, l'euro sta in asset manager short, quindi pressione istituzionale short or del flow short, allora vado short su euro-dollaro. Bravo pollo, hai preso solamente i dati dell'euro e non sai minimamente la macro view del dollaro, ok? Quindi hai il 50% delle informazioni che ti servono. Se volete tradare un asset forex, mettiamo che domani Daniele si mette a grafico, domani no, lunedì ad esempio si mette a grafico e vuole tradare, USD-CAD ha bisogno dei dati del dollaro e ha bisogno dei dati del CAD. Se questi due dati concordano, la bias di mercato è molto importante, ok? Quindi avete una direzionalità forte. Se i dati sono opposti, questa domanda ve la faccio a voi, se i dati sono opposti, secondo voi cosa abbiamo? Mercato trending o mercato in consolidation? Se il Commitment of Traders dei due dati... Bravissimi, bravissimi, cioppi, consolidation, 90% delle volte, ok? Perché la potenza delle due valute si eggia, ok? Questo che sto guardando in questo esatto momento si vi dà il dato sul dollaro. Un'altra informazione, il report, ricordatevi, che esce sul futures, non parla di posizionamento CFD, non parla di posizionamento derivati, parla di posizionamento sul mercato del futures, ok? Ora andiamo da zero sul sito, perché vi faccio vedere direttamente da zero, grande Fabio quanto valore... Vedremo queste informazioni sul corso del prossimo auguro, esatto ragazzi, quando troverete la parte del COT ci sarà questa parte qua, vedrete, cercheranno di vendervela. Allora, andate su il sito principale, schermata principale, ci sono due informazioni, ok? Voi troverete la parte delle valute e avrete due dati, a sinistra il legacy, a destra il COT classico. Quello che vi deve interessare è il COT classico, ok? Vi farò vedere, ad esempio, vogliamo vedere il dollaro, vogliamo vedere l'euro, prendiamo ad esempio il COT del dollaro, ok? In questo caso, poi vi possiamo vedere l'euro, vabbè è uguale ragazzi, è uguale, possiamo vedere, ok? Non esiste per CFD, vero? No, non esiste ragazzi, vi prendo l'euro come chiedete in chat, ok? Andiamo direttamente sull'euro. Allora, prima cosa che dobbiamo capire è di quando sono questi dati. Questi dati di riferimento sono del 4 gennaio. Se vi andate a cercare quando è il 4 gennaio, è praticamente settimana scorsa, quindi sono i dati presi del posizionamento di una settimana fa, ok? Gli altri dati verranno rilasciati dopo questo venerdì, quindi dopo stasera, ok? E potranno essere utilizzati per la settimana successiva, ok? Sì, funziona su tutto ragazzi, funziona su tutto. Sì, ci dovrebbe essere anche per il futures, aspettate un attimo, andiamo a vedere, per il futures degli, eccoli qua, per gli indici. Per tutti coloro che fanno l'analisi ciclica e vogliono montarci sopra un'analisi di bias, questo qua è orocolato, ok? Vi andate a vedere il posizionamento institutional sull'indici e se fate position trading avete un grande vantaggio statistico. Andiamo alla parte pratica, ok? Cerchiamo di capire intanto chi sono i protagonisti, ok? Che cosa vuol dire dealer intermediary? Che cosa vuol dire asset manager institutional? Che cosa vuol dire leverage funds? Quali sono gli obiettivi di questi operatori? Che cosa sono queste statistiche ostiche? E come utilizziamo questo, ok? Cerchiamo di fare le cose il più semplici possibili, ok? Allora, partiamo con il fatto che la posizione netta dell'operatore è la cosa più importante. E partiamo anche dal fatto che non dovete basarvi sui colori. Quindi, se andiamo su questo grafico, la prima cosa di quando hai iniziato a leggere questo dato che ti porta in errore, vedi verde cosa pensi? Stanno long. Attenzione! Che qua abbiamo differenziato fra esposizione long ed esposizione short. Vi faccio una domanda. Se loro, guardando solamente le posizioni che hanno aumentato, ok? Se loro hanno aggiunto 9.219 contratti long e 7.400 contratti short, qual è l'esposizione sulla quale sono più avanti in termini di ultima settimana? Non parlo di posizionamento totale, ma dov'è che si sono esposti di più? Long o short? Vedete, molti ragazzi stanno sbagliando, ok? Perché la posizione totale, il net positioning è short, ma l'esposizione, la variazione dove hanno aperto più posizioni è questa qua. Perché ci sono circa 2.000 posizioni in più per il long. Se invece andiamo a vedere il posizionamento del dealer in netto, noi abbiamo i dealer che sono 87% short. Ok? Grazie a te sto avendo grandissimi risultati, grande Vincenzo, ok? Quindi, attenzione, posizionamento totale dei dealer è short, esposizione di questa settimana stanno iniziando a scaricare gli short, ok? Perché iniziano ad aggiungere più posizioni che possono essere anche in hedging long. Vi è chiara questa prima parte? Ok? Quindi come si legge intanto questa schermata? Abbiamo delle posizioni long, abbiamo delle posizioni short, abbiamo l'operatore, qui sotto abbiamo il netto di quello che sta facendo l'operatore, il netto, e queste sono le variazioni della settimana di riferimento. Ok? Vi ripeto, su questa schermata voi avete diversi operatori, i dealer, gli asset manager, che sarebbero poi institutional, e i fondi leverage. Questi due dati potete cancellarvi, per ora non vi servono, ok? Su questi tre posizionamenti, voi dovete andare a guardare se di settimana in settimana aumenta l'esposizione long o short, ok? In questo caso hanno aumentato entrambe le esposizioni, ma è aumentata di più l'esposizione long rispetto all'esposizione short, ok? Quindi stanno iniziando ad aggiarsi long. La loro posizione totale dei dealer qual è? È short. Dell'87,58% short. Chiaro fin qua? Se non capiamo questo concetto, non possiamo andare a chi sono gli operatori, ok? Chiarissimo, 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 chiarissimo. Ok. Prima cercate di capire come si legge, ok? Una volta fatto ciò, andiamo a capire chi sono. Questa parte qua, ok? Non mi va di fare una prosopopea su come lavora di market maker, ma calcolate che sono per il 90% del tempo sono le posizioni in hedging, ok? Quindi avete la controparte, sono coloro che sono posizionati nella direzione contraria del mercato, ok? Quelli che a noi interessano, e vi dirò la strategia che vi fa avere una lettura del COT con una precisione dell'80%, ok? E questo dato lo state avendo gratuito, mettendo insieme due dati. I dati più interessanti sono gli asset manager institutional e i leverage fund, ok? Chiaro? Se cliccate qua sopra, vi fanno proprio vedere l'esposizione totale, ok? Quindi l'esposizione totale è 288.000 posizioni short sull'euro, ok? E 40.000 posizioni long. Da questo dato andate a ricavare proprio l'87% di posizionamento short e il 12% di posizionamento long, ok? Ecco perché dovete capire che non è che se vedete verde questi sono long, dipende se vedete verde su quale posizione hanno aumentato di settimana in settimana e qual è la loro posizione netta, ok? Eh, penso che sarebbe super interessante una live sul terminale Bloomberg, magari la facciamo, però costa tanto, non so quanti poi se andrebbero a prendere il terminale Bloomberg. Ok ragazzi? Sì, assolutamente, la domanda Alessandro che ti... cioè il modo in cui lo utilizzo si basa proprio su quello, ok? Ora, andiamo avanti. Asset manager institutional. Queste qua non hanno bisogno di presentazioni, sono le mani forti, i cosiddetti smart money, sono coloro che muovono capitali talmente grandi che il mercato lo fanno, ok? Quindi sono gestori di fondi e sono istituzioni. Queste persone qua, vedendo questo posizionamento, calcolate che avranno anche posizioni in edging, ok? Quindi non vi dovete basare solamente su questo. Il dato madre, il dato importantissimo, è quando questi due concordano. Ma non mi piace solamente dirvelo teoricamente, andiamo a vedere proprio nel pratico, ok? Lezione fantastica, troppo valore gratuito, ottimo. Allora, proviamo un attimo a lasciare a voi la lettura di questo dato. Quante sono le posizioni long che sono state aggiunte o tolte questa settimana per gli asset manager? E quanti sono le posizioni short che sono state aggiunte o tolte per gli asset manager? E tra l'altro voglio sapere, basandoci sull'ultima settimana, non sul posizionamento netto, questa settimana cosa hanno fatto? Qual è la loro direzionalità per questa settimana? Dove si sono esposti? Esatto, hanno scaricato 4.600 posizioni long, ok? E hanno caricato 5.134 posizioni short. La loro bias, che cosa sta facendo? Andiamo a vedere. Hanno un netto long preponderante. Hanno caricato 5.134 long, scaricato 4.620 short. Cosa vuol dire? Che gli asset manager, gli istituzionali, sono long. Ok? Scusate, scusate, intendo sono short ragazzi. Il netto e long hanno caricato gli short, ok? Quindi stanno scaricando posizioni. Stavo leggendo la chat. Sì, 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 sì. Sta switchando short. Sono direzionalità di lungo termine long, posizionamento lungo termine long, posizionamento di breve termine che sta caricando gli short e diminuendo l'esposizione dei long. Un treno che sta frenando. Una situazione del genere, a cosa può apportare? Può apportare probabilmente, ok, a un reversal di mercato. Dati al di sotto. I leverage fund. Che cosa stanno facendo? Stanno caricando posizioni short o scaricando posizioni short? Che cosa stanno facendo? I long? Questi trader, i leverage fund, stanno diminuendo l'esposizione su entrambi. Hanno tolto 4.400 posizioni long e hanno tolto 4.900 posizioni short. Esatto. Bravissimo Luigi. Stanno prendendo profitto. Stanno scaricando, ok? Esattamente. Perfetto. Massimiliano anche corretto. Ok? Matteo dice, grande Fabio, ottimo busta. Sì, questo è un ottimo busta, ragazzi. Assolutamente sì. Sì, Dennis. Vi faccio vedere proprio come lo utilizzo io. Ok? Questa è solamente la parte esplicativa per farvi capire come varia di settimana in settimana. Poi andiamo nel pratico. Andiamo proprio ad esempio a vedere l'euro. Andiamo a vedere il dollaro. E non solo. Vi do un altro sito atomico. Ok? Allora, quindi, abbiamo capito. Recap. Posizioni long, posizioni short. Tre tipologie di operatori che ci interessano. Market maker. Asset manager institutional, quindi le mani forti. E i fondi leverage, quindi gli hedge fund. Ok? Tre dati importanti, facili da leggere. Quanto aumentano l'esposizione? Ok? O quanto la diminuiscono in questo caso. Per i long e per i short. Poi, long versus short. Questo è il netto. Se dovessi prendervi questo dato, i dealer, cioè, guardate solamente questa schermata, no? Sull'euro-dollaro, visto che vi ho detto che le mani forti sono gli asset manager, ok? La direzionalità è long o short. Netto. Netto, ragazzi. Il netto. Esatto. Benissimo. Ok? C'è un ragazzo che ha detto girami l'address cripto che voglio ringraziarti, grande. Allora, ora, abbiamo questi dati, questi fateci la croce, non ci interessano per ora, ok? Quindi dealer, asset manager e leverage money. Andiamo sulla parte interessante. Ora, questo dato qua deve essere preso con cognizione di quello che stiamo facendo, ok? Allora, intanto, primo step, togliete gli other reportable e togliete i non-reportable, perché non ci interessano in questa fase di mercato, ok? Non sono quello che ci serve. Quando è che succede la magia? Sì, vi spiego proprio come funziona, ragazzi, ok? Una spiegazione così non la trovate, non la trovate su YouTube. Allora, andiamo un attimo a vedere. Questo è il pricing dell'euro, ok? Pricing, ricordatevi che stiamo guardando l'euro, non stiamo guardando l'euro-dollaro, ma stiamo guardando, scusate, cos'era il posizionamento dell'euro. Allora, abbiamo detto che i leverage money sono quelli verdi, ok? Che sono attualmente in consolidation. Se andiamo a restringere il campo d'azione, si vede ancora meglio come sono proprio intorno allo zero, ok? Sono intorno allo zero, iniziano a prendere posizione da questo momento. Scende sotto lo zero, che cosa vuol dire? Che sono esposti di meno 16.000 contratti, ok? Quindi sono short. Cosa abbiamo detto? Che i market maker prendono sempre la posizione contraria di esposizione, ok? Quindi se il mercato vuole andare short, loro se ne vanno long, ok? Gli asset manager, abbiamo detto che sono coloro che sono più forti dal punto di vista di leva, ok? Dal punto di vista, scusate, di capitale, e sono coloro che fanno il mercato. Quindi secondo voi, ok? Il vostro potenziale parere. Quando abbiamo i dealer che switchano long, gli asset manager che switchano short, e i leverage money che switchano short, qual è la direzionalità dell'asset? Bravissimi, ok? Bravissimi. Ragazzi, questa informazione, questa informazione, ragazzi, se riuscite a capire come utilizzarla, è oro. Perché? Allora, prima cosa, il primo errore che fanno la maggior parte delle persone è guardare solamente se si trova al di sopra o al di sotto della linea, ok? Se si trova al di sopra della linea, uno dice, va bene, sono net long, allora sicuramente l'asset andrà long. E questa è una cosa sbagliatissima. Ok? Voi non potete leggere cosa, ragazzi? Non vi fa vedere lo schermo? Non vi fa vedere Tradingster? Sì, sì, lo so, ragazzi, li posso leggere solamente io. Ok, perfetto. Allora, dicevo, sto leggendo io i commenti nel frattempo, l'esposizione, in questo caso, degli asset manager, vedete che switch che c'è? 20.000 contratti in meno stanno posizionandosi short. Quello che sbagliano tutti è che guardano se si trova al di sopra o al di sotto dell'average, quindi del posizionamento flat, lo zero. Quello che dovete capire è il cambio di posizionamento. Guardate questo, voi dite, vabbè, ma il dato arriva una settimana dopo. Ok, benissimo. Immaginate che questa è la settimana in cui esce il dato e lo potete utilizzare per tutto questo tempo. Ok? Il posizionamento degli asset manager continua ad avere uno scarico di posizioni long e un carico di posizioni short. Ok? Qui abbiamo una posizione flat, ok, intorno allo zero, fino a questo momento in cui abbiamo un'esposizione che diventa negativa e qua diventa ancora più ampia. Abbiamo i dealer che sono long, da quando iniziano a diventare long dealer? Da questo momento. E da questo momento iniziano a prendere la posizione contraria, come vedete, ok? Quindi da questo momento noi ci aspettiamo un treno, non un trend, un treno long term short per l'euro. Ok? Fabio, se continui a spammare le domande in chat, ok, non mi permetti di leggere gli altri, sto facendo un discorso riguardante come si legge il net position, ok? Se questo qua è chiaro, non ti serve quell'informazione. Allora, andiamo avanti. Cerchiamo un attimo di capire su base storica anche come si è comportato questo dato e quando diventa veramente interessante. Portate avanti qua, perché avete sott'occhio tutti i trend più importanti sull'euro, non sull'euro-dollaro, sull'euro, ok, futures. Allora, prima informazione. Asset manager long, ok, non vuol dire necessariamente posizionamento long. Sapete quando vuol dire posizionamento long? Guardate questo caso, siamo sempre sopra il flat, ok? Ma qua siamo tutti in consolidation, non abbiamo un net positioning. Quando è che abbiamo un effettivo a rottura struttura? Con questo movimento, ok? Con questo movimento. E da quando è che anche i leverage money iniziano a prendere direzionalità long, diminuendo notevolmente l'esposizione short, e i dealer, i market maker, edgiano queste posizioni? Da questo esatto momento? E da questo esatto momento sono i minimi dell'euro, perché da qua prendiamo il trend, ok? Quando è che invece gli asset manager vanno a liquidare posizioni long per iniziare l'esposizione short e anche i dealer iniziano a prendere posizione in edging mentre i leverage money vanno a short? Qua, l'ultimo trend. Questa informazione è consistente. Anche qua, su questo picco di mercato. Cosa abbiamo? Esposizione che inizia short, ok? Picco dei leverage money, dealer che iniziano adeggiarsi, ok? Dealer che iniziano adeggiarsi e da questo momento fino alla flat line noi abbiamo una direzionalità chiara. In questi momenti di mercato è quando l'asset, l'euro di riferimento va in consolidation, ok? I dealer vanno sempre al contrario. Ok? I dealer vanno sempre al contrario della direzionalità. Se qui prendiamo direzionalità short loro vanno long. Se qui andiamo long loro vanno short, ok? Qui andiamo long loro vanno short. Un'altra informazione molto importante è capire la concordanza e la discordanza esatto, bravi. Alessandro ha detto la cosa più intelligente di tutti i commenti, ragazzi. Alessandro ha detto questa è l'analisi on-chain dei futures, ok? È così. L'analisi macroeconomica che è fondamentale è proprio questa per quello che riguarda asset di riferimento singoli come l'analisi dell'euro e del dollaro. Ora, prendendo questa informazione immaginate che voi vedete una situazione di questo di questa entità sull'euro e allo stesso tempo vedete il dollaro, ok? Che inizia a indebolirsi da morire. Ok? Inizia ad avere i leverage money short, gli asset manager short, i dealer long. Che posizione prenderemo, ragazzi? Andremo swing o positioning con confidenza long. Questa cosa è applicabile su qualsiasi asset. Avete tutto. Avete le commodities, avete gli indici. Però capite bene che se un ragazzo mi dice la utilizzo per l'intraday non ha minimamente senso perché è un dato che per l'intraday è troppo short term. Ok? Vi ripeto, ragazzi, come dicevo, se questo è il dato dell'euro, no? Questo è il dato dell'euro. Ok? Cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo se i leverage money vanno long, ok? Gli asset manager vanno long, ok? I dealer si coprono le posizioni short, ok? Quindi sappiamo che la bias di quest'asset è questa, no? Siete d'accordo su questo? Sull'euro, questo è l'euro. Allo stesso modo prendiamo le informazioni del dollaro, ok? Quindi l'asset di riferimento che viene accoppiato con l'euro, quindi si forma euro-dollaro e le informazioni sul dollaro sono completamente short, quindi leverage money short, asset manager short, dealer long. Qual è la posizione che prendete? Esatto. Vi è chiara questa cosa, ragazzi? Esatto. Benissimo. Ora, andiamo avanti perché non è finita qua. Allora, ditemi un asset che volete vedere. Eh, se siete entrati tardi, ragazzi, se siete entrati tardi, purtroppo vi siete persi un'importante parte. Ve la caricherò, eh? Ve la caricherò questa qua perché è molto approfondita. Yen, 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 ti prego, yen. Ok, andiamo a vedere lo yen. Allora, informazioni di riferimento sullo yen. Vediamo, asset manager short, leverage money short, i dealer che sono in edging completamente long e andiamo a vedere che hanno aumentato di 11.000 le posizioni long i dealer. Ok, allo stesso modo vediamo che stanno diminuendo le posizioni long gli asset manager. Ok, quindi stanno prendendo, stanno scaricando parte delle posizioni e sta aumentando l'esposizione short dei leverage fund di 5.573. Prendiamo le informazioni che vi ho detto prima. Ok, come abbiamo detto sempre andiamo a vedere un attimo un secondo ragazzi che da un posizionamento qua purtroppo ragazzi la scala è il problema più grande. Allora, andiamo a mettere due anni. Per me lo yen ha un problema di integrazione qua perché su bar charts funziona bene. Su questo invece va bene, ve lo faccio da qua sotto. Ok, ve lo faccio da qua sotto il ragionamento direttamente. rispondetemi a questo. da questo momento di mercato facciamo due esempi. L'esempio della direzionalità long e l'esempio della direzionalità short. Ok, siete in questa fase di mercato. Ok, vedete gli asset manager che hanno uno shift enorme short, i leverage money che hanno un'esposizione che continua a ampliarsi short e avete i dealer che aumentano la posizione long. Come andate? Long o short? Lungo termine? Esatto. Benissimo. Ok? In questo caso invece l'everage money long concordi con gli asset manager che hanno aumentato da 39 a 2.000 quindi hanno liquidato 40.000 posizioni short. Ok? Abbiamo i dealer che iniziano adeggiarsi. Che cosa ci aspettiamo? Esatto. Esatto. In questo caso long e in questo caso short. In questo caso cosa abbiamo ragazzi? Abbiamo un mercato che si è già long per i market maker e leverage money e asset manager short lo yen ce l'aspettiamo per il lungo termine ragazzi non lo utilizzate intraday fine settimana fine mese fine trimestre short. Ok? Queste sono le informazioni del COT. Ora ragazzi già sono passati 50 minuti a me sembra che siano passati 10 minuti andiamo avanti esatto esatto andiamo avanti ragazzi finora vi è chiaro? Vi piace? avete tratto delle informazioni che pensate possano esservi utili che non avete trovato da nessuna parte? Ok ottimo andiamo avanti altro dato ci sono molti ragazzi che dicono grazie oro ok e altri ragazzi che dicono Fabio non ho capito allora lo so che è un concetto ostico da digerire a parte che è un concetto che dovete iniziare ad applicare voi perché vederlo in una live di un'ora non vi permette di capirlo a fondo dovete andare su questi siti e guardarvi storicamente come si sono comportate le valute ad esempio qui stiamo vedendo lo yen se volessi capire l'euro dollaro che cosa ha fatto su base storica l'andrei a confrontare con il posizionamento dell'euro sullo stesso momento e vedrete quanto reagisce la valuta ok vedrete quanto reagisce la valuta ora ultima informazione che voglio darvi senza dilungarmi troppo bar charts vi dà il posizionamento invece che è a prova di scemo ok vi piace il posizionamento a prova di scemo cioè che potrebbe utilizzarlo chiunque ok allora il posizionamento di bar charts è solamente diviso fra i leverage money ok e i retail quindi chiarissimo ok andiamo a prendere un attimo qua potete selezionare qualsiasi cosa ok quindi le valute come sempre financial e tutto quanto vediamo un attimo eh non faccio nomi non dico il formatore che hai nominato mi ha rapinato con una spiegazione ridicola del COT tu gratuitamente sei riuscito a chiarificare un concetto in modo maniacale grazie mille grazie mille allora qui siamo sull'euro no siamo sull'euro vi faccio vedere invece questa informazione che è molto bella perché vi dà direttamente sovrapposto come avevamo prima ma in scala ottima in questo caso le informazioni dell'euro dollaro ok in questo caso noi abbiamo la differenza fra i large speculators e gli small speculators ok la differenza fra speculatori grandi e speculatori piccoli è un COT che prende dati differenti ricordatevi che i commercial sono sempre coloro che hanno la controparte ok quindi vanno contrarie ad esempio mercato va long questi vanno short ok i leverage money vanno long mercato va long effettivamente vi porto un'informazione che è più dettagliata sul medio termine ok in questo caso voi vedete gli small speculators che vediamo se indovinate chi sono chi sono gli small speculators ragazzi esatto small speculators sono i piccolini ok possono essere assimilati al posizionamento di oanda di cosa fanno i retail ok quindi è un dato che non ci interessa lo ignoriamo completamente i dati che ci interessano invece sono i large speculators tutti i dati che avete visto prima i leverage money e gli asset manager in questo caso vengono aggregati dentro un'informazione quello che stanno facendo i large speculators i commercial invece sono quelli che prendono la controparte ok gli hedgers benissimo andiamo a vedere questa informazione mercato short ok mercato short esposizione enorme con aumento guardate di quanto è aumentato da meno 10.000 a più 10.000 degli speculatori di lungo termine per il long dell'asset queste sono informazioni ragazzi immaginate se qua sotto c'era anche una demand queste per il position trading sono fenomenali ok un'altra cosa che potete utilizzare è vedere come cambia l'esposizione dei commercial vedete che sono simmetriche ok uno prende uno edge uno va long uno va short e se andiamo su base statistica il mercato va long i large speculators vanno sempre long i commercial contrarian vanno short ok andiamo a vedere un'altra informazione no arriviamo in questo caso su questa posizione di mercato abbiamo un net positioning long ok quindi siamo nettamente 20.000 contratti long ma iniziamo a diminuire l'esposizione e mentre iniziamo a diminuire l'esposizione iniziano adeggiarsi i commercials ok cosa succede il mercato in questo caso fa un'altra un altro drive rialzista ora 99% delle volte che su base statistica vi andate a vedere questo funziona anche su commodities ok vi andate a vedere che il posizionamento degli asset manager in questo caso i large speculators quindi compresi anche i leverage money va in una direzione e il mercato va nell'altra ragazzi è un'induzione e se ha un'induzione di mercato vuol dire che anche i retail saranno invariati con il loro posizionamento long e questa è una cosa che a me fa ridere abbastanza perché è comica no cioè una volta che tu capisci il mercato capisci anche come funziona la logica e come mandano le persone nella direzione opposta no come vedete i retail hanno aumentato considerevolmente la loro posizione long per quello che possono fare perché non hanno gli stessi capitali come vedete in scala sono ridicoli i capitali per questo è in scala ma vedete che hanno aumentato tantissimo le posizioni long qua dentro e non solo le hanno mantenute le hanno anche aumentate in questa fase mentre coloro che il mercato lo fanno hanno scaricato ok hanno continuato a scaricare posizioni come vedete diminuisce l'esposizione quindi questo qua è tutto il profit taking allo stesso modo i commercials che queste informazioni le guardano hanno iniziato ad adeggiarsi long perché prendono la controparte ok successivamente a questa cosa mercato long dealer leverage money large speculators short il mercato troppa se andiamo indietro ora anche in questa informazione che cosa vediamo ragazzi come vedete consolidation di mercato qua iniziano a diminuire le posizioni ok quindi iniziano a diminuire i long aumentare gli short potete vedere in tutta questa fase non abbiamo nessuna rottura struttura immaginate di vedere delle strutturine di prezzo ok qua sopra e di vedere quali vengono rispettate e quali vengono breccate vedete che fino a questo momento vengono rispettate le strutture short quando è che vengono rotte? grazie a questo movimento e da qua parte il long ok allo stesso modo i retail cosa fanno ragazzi guardate quanto comprano per loro questi sono tantissimi soldi comprano tutte queste posizioni i retail il retail quando lo vedi aggregato al commercial sta perdendo una valanga di soldi ok sta perdendo una valanga di soldi sul mercato perché? perché sta prendendo la controparte sta allungando questa situazione ok queste informazioni sono applicabili come vi dicevo su qualsiasi asset io le ho provate tutte le piattaforme ho provato cotbase ho provato riverland che era una piattaforma non so se ancora esiste che era di comparazione con futures vi metteva già in comparazione l'euro con il dollaro l'euro con lo yen aggregava i dati costava l'ira di dio 299 euro al mese e con l'informazione che vi ho dato qua avete forse anche qualcosa in più rispetto a quello che utilizzate per bar charts ragazzi è molto semplice selezionate la commodities o l'asset futures quindi andiamo a prenderci ad esempio che vi posso dire andiamo un attimo vogliamo vedere il bitcoin ragazzi vogliamo vedere il bitcoin no comunque a parte gli scherzi andiamo ad esempio su dollaro australiano la prossima lezione sarà a pagamento no gratuita ragazzi gratuita chiudiamo qua allora dovete sempre scegliere l'asset che ha più open interest ok quindi in questo caso andiamo a prendere questo stiamo parlando sempre a strada in dollar prendete questo qua ok questo dato qua qui come sempre per fare tutto gratuito ovviamente un po' di pubblicità ce la becchiamo dovete andare su technical charts qua dentro chiudiamo la pubblicità di bar charts qua sotto vi andate a mettere volume off price box lo eliminate ok poi tanto vi carico tutto quanto andate a mettere weekly contract quindi un informe vogliamo vedere anche vabbè verrebbe troppo lunga vi faccio vedere il weekly contract e vi metto su base lungo termine poi se vi interessa vi faccio vedere anche per lo swing di medio termine ok allora in questo caso poi un'altra informazione che dovevamo aggiungere è study technical study commitment of traders ok e andate a fare draw charts esatto ok poi allora qua non mi ha tolto non so perché non mi ha tolto il volume gli avevo messo e questo qua lo volevo più grande oh eccoci qua ragazzi eccoci qua allora senza guardare neanche il grafico ok senza guardare neanche il grafico vedendo l'esposizione che guardate ogni tanto capita anche che è raro vedere i retail che vanno in profit ma lo fanno anche loro ogni tanto ok quando hanno la giusta formazione vanno in profit anche loro non in questo caso purtroppo allora in questo caso abbiamo esposizione commercial completamente long esposizione large speculators completamente short inizia a diminuire di tanto ragazzi ok cosa ci aspettiamo cosa ci aspettiamo ragazzi uno short questo è quello che accade ok questo è quello che accade idem qua sotto guardate quanto è spettacolare vedere questo sul mercato commercial scheggiano da morire large speculators che aumentano di tanto l'esposizione voi questa informazione l'avete questa settimana quindi l'avete sulla prima candela di engulfing retail che vabbè aumentano le posizioni short qui stanno perdendo una cosa impressionante ok fino al momento in cui poi abbiamo già aumentato l'esposizione parte la vera esposizione il vero trend e da qua long e i retail quando è che capiscono questa cosa a me fa ridere troppo quando è che i retail capiscono la direzione quando abbiamo un engulfing di una settimana che chiude sopra al massimo no cioè non vedendo questi dati provano a shortare tutte quante qua cosa fanno provano a shortare tutti questi massimi no ora con tutto l'ottimismo che potrebbe avere un retail in questo caso shortando questo mercato si sta mettendo contro gli asset manager e i leverage money ok questa è informazione abbastanza comica ragazzi io spero la live vi sia piaciuta so che è stata lunga e durata un'ora è un'informazione che vi portate a casa gratuitamente e se volete lasciare insomma come sempre una recensione visto che le live sono e rimarranno gratuite ce l'avete qua siamo a 251 lasciate niente ragazzi buon trading a tutti e ci vediamo nella prossima live come sempre faccio sondaggio per sapere le informazioni che vi interessano di più e ve le porto ciao ragazzi buon trading buon weekend e buona serata ciao Grazie a tutti